questa è la nostra serie a modello cipria abbiamo tre colori diversi a disposizione sul nostro negozio questo colore verde smeraldo poi abbiamo anche bordeaux e blu fatta in velluto antimacchia molto morbido morbido bello elegante con questo tessuto antimacchia è un velluto molto bello molto morbido e poi l'intelaiatura d'acciaio di colore nero e i piedini antigraffio in ottone tutto firmato e colts ciao questo è l'ave casa e questo è il passaggio di cipria questa è l'intelaiatura d'acciaio e questa invece è la seduta di velluto color verde questo bellissimo verde speranza grazie a tutti grazie a tutti